Qual è l'impegno dell'Istat per garantire la qualità delle rilevazioni dell'Istat e dei dati che ne scaturiscono? L'Istat ha da alcuni anni assunto questo impegno in maniera primaria, questo impegno si concretizza nella misa a disposizione di strumenti per tutto l'istituto e per tutte le rilevazioni dell'istituto, strumenti da seguire per avere un comune approccio verso la qualità e poi si è dato uno strumento di verifica e di controllo, abbiamo un processo di audit che periodicamente va a verificare per tutti i processi dell'istituto qual è il livello di qualità raggiunto e se ci siano quali e quante azioni di miglioramento si debbano eventualmente mettere in campo per portare questi livelli di qualità a un livello più alto, quello che compete ad una statistica ufficiale.